La Juventus è la prima da andare in vantaggio, un cross di Boniek. Ribatte Cattaneo, Tardelli apre su Platini, è preciso il cross di Platini e Rossi segna e porta in vantaggio la Juventus. È il settimo minuto. Pareggia l'Udinese al nono dopo due minuti con questo bel colpo di testa di Galparoli. Poi l'Udinese va addirittura in vantaggio al ventinovesimo con l'ex Virdis. Causio, altro ex, l'azione è tutta di due ex, il suo cross è il colpo di testa di Virdis. E così finisce il primo tempo. Parte la Juventus nella ripresa a grande andatura e al ventottesimo raggiunge il pareggio con questo splendido gol di Platini. È il 2-2 finale.